Dato che comunque per lavoro ho avuto spesso a che fare con la finzione, film, le serie animate, i fumetti, i libri che ho letto, io sono il tipo di persona che non gli interessa niente della storia, perché è finta del tipo che mi importa. Si può parlare anche di uno studio dell'amore nel mondo di oggi, diciamo, nella grande disgregazione, chiamiamola così per citare Kuyama, un mondo che spinge molto sulla solitudine delle persone, sul profitto come unico modo di interfacciarsi. E' un aspetto di cui avevo parlato anche con Gualtiero, alcuni personaggi femminili di Niazaki. Diciamo c'è una grossa dicotomia, personaggi femminili innocenti ancora non entrati nelle dinamiche adulte e nei drammi, anche nelle vrosi, e dall'altro personaggi femminili che invece rimpiangono quell'ingenuità, quella carica vitale giovanile, e però in ogni personaggio femminile più innocente c'è in nuce la potenzialità del personaggio decaduto e adulto, mentre nel personaggio decaduto c'è il ricordo e la nostalgia di quello che era stato prima. Test, se vogliamo dire di città, quali sono in Italia dei centri abitati che possiamo definire città, quindi urbane? Un po' come Bianponi è cantante dei Baustel, Amen. Una volta Gualtiero mi ha detto che questo è l'occhio di Lena, uno dei protagonisti del libro. Si chiama Betty, questa canzone. Il video per me è appiacciante, praticamente segue la giornata di una ragazza a Milano. Questa giornata, dal risveglio alla fine del video, sembra una discesa in campo di stordimento. E' francamente terrificante, perché io sono un provinciale. Non so se questa cosa sia totalmente normale per chi è nato in città. Se un tempo si cercava un'utopia, una soluzione per la società, adesso non possiamo cambiare il mondo, non possiamo neanche comprendere veramente il mondo, per quanto è confusionario e caotico. Quanto meno cerchiamo di risolvere noi stessi. E' ovvio che se io scrivo un libro facendo di tutti i personaggi i miei cloni, inoltre ad essere noiosissimo, è insignificante. Hai inutile arte, due amici, un grande ritorno, quello di Gualtiero. Grazie Gualtiero per essere qui. Grazie a te. E Francesco, Francesco Granziera. Ciao. Grazie anche a Francesco. Grazie a te. Francesco ha scritto un libro, Antropofagia, che anche Gualtiero conosce molto bene, perché, diciamo, ha con Francesco discusso durante l'elaborazione del libro. E attraverso questo libro vorremmo parlare un po' di postmodernità, di drammi e nevrosi contemporanee, e quindi un po' del nostro mondo, ecco. Francesco, come è nato questo libro? Come è iniziato? Quali sono state le tue idee, le tue turbe? Allora, diciamo che questo libro è nato in un periodo in cui proprio non riuscivo a vedere la luce nella mia vita. Ero proprio al limite. Tutte le strategie di sopravvivenza che avevo elaborato fino a quel momento non funzionavano più per salvarmi, quindi sotto consiglio di un amico, di un amico che è qua, praticamente ho deciso di intraprendere la strada dello scrivere. Sapevo già scrivere più o meno prima, tenevo un blog, il Bokurano Kakumei, in cui scrive anche Gualtiero. Tuttavia, è stata la prima volta che ho provato sul serio a scrivere un romanzo. Avevo già provato una volta prima, in cui volevo scrivere una storia di un ragazzo che incontra una ragazza araba e decidono di diventare dei terroristi. Avevo provato a buttarla giù, però non era stata abbastanza convincente. Questo parlo di cinque anni prima che iniziasse a scrivere l'antropofagia. Sottoposi l'idea anche a Gualtiero, all'epoca. Gualtiero mi ha detto, eh ma è come una serie tv che hanno fatto con Scamaccio. Come si chiamava già? Una serie tv con Scamaccio che parla di terroristi anni 70, no? Allora, se ci fosse come tu Riccardo Scamaccio, penso lo scopristi tu. Io mi ricordavo solo che avevo letto un articolo di una, penso fosse, una frangia armata militante, quindi anche terroristica, nel periodo dei cosiddetti anni di Piombo. Nel 70, come cosiddetti anni di Piombo. Non mi ricordo neanche il titolo della cosa, ma forse è la prima linea? Eh sì, sì, può essere, sì. Sostanzialmente comunque la mia idea in questa storia era che c'era questo disadattato che si incontrava con la ragazza araba. All'epoca non avevo nessuna idea della cultura araba, ne avevo mai incontrato ragazze arabe in vita mia. E questa ragazza araba, tra l'altro, faceva anche la ballerina, quello che mi ero immaginato, e aveva delle, esercitava su se stessa dell'autolesionismo, tipo si bruciava le braccia. Non avevo mai conosciuto neanche una ragazza che abbia mai fatto autolesionismo, quindi questo era tutto frutto della mia fantasia e basta. Col passare del tempo poi ho conosciuto effettivamente una ragazza araba che praticava autolesionismo e quindi lì poi ho iniziato, la storia vera, reale, ha iniziato a prendere strada in me, quindi ho tolto la cosa del terrorismo, volevo scrivere più che altro una storia del nostro tempo attuale che non è una storia anni 70, perché il terrorismo lo vedo più come una cosa anni 70, una cosa americana, ma non italiana ad esempio, cioè. Quindi alla fine lì ho iniziato a scrivere antropofagia, diciamo. Un tentativo di autoriparazione personale, una forma di resistenza personale a un mondo con il quale non mi trovo molto bene. Ho deciso di pubblicarlo soltanto quando una mia amica, di Letta, quella che ha realizzato questa copertina qua, mi ha detto che questa storia l'ha fatta uscire da un suo periodo molto buio e quindi lì ho capito che magari poteva far del bene a qualcuno. Ben consapevole del fatto che l'editoria in Italia abbia dei grossi problemi, ho deciso comunque di pubblicarlo. Io ricordo che forse dapprima, in quel periodo tuo, Francesco, me lo ricordo, come spesso accade in un periodo di smarrimento, oserei dire, che era seguito poi agli anni del Covid, no? Quelli delle chiusure, che da un lato sono stati restrittivi, le attività che ciascuno di noi poteva condurre. Dall'altro hanno giocoforza consegnato molto tempo libero e ricordo quindi che Francesco era anche in quel momento molto attivo sul suo blog, che esiste ancora, come diciamo, poi io sono diventato una specie di... non ho ancora capito se sono un guastatore, un incursore, comunque un ospite desiderato. È un amministratore, sei addirittura amministratore. In quel periodo di attività, allora, originariamente, credo che il blog di Francesco, che è un blog di lungo corso, fosse stato come un blog di recensioni di produzioni animate e fumettistiche, poi allargatosi anche a produzioni filmiche, poi allargatosi anche a, oserei dire, i contenuti intellettuali che talvolta si trovano in produzione di narrative. È evidente che, almeno per me è evidente, che Francesco, ma anche quando semplicemente da più giovane, io retrattivamente ho recuperato alcuni suoi scritti, no? Anche quando da più giovane, magari, recensiva una serie animata, magari si focalizzava su un certo tipo di contenuto di quella serie animata. E anche le serie animate che recensiva, ora, nell'epoca dei social sembra strano, ma non necessariamente erano quelle in voga in quel momento. Erano magari dei prodotti che l'avevano interessato per un determinato contenuto, che lui andava a distrinsecare. Allora, ok, allora, avevamo iniziato a parlare. Io e lui, e in quel periodo in cui lui era molto attivo, no? Scriveva tante cose, sempre meno recensioni, sempre più riflessioni, venne fuori un po' questo tema di cui lui aveva parlato e io gli dissi, ah, beh, sì, questo sembra un racconto. Lui inizialmente aveva pensato di fare un racconto, magari per il suo blog, un racconto a puntate pubblicato sul suo blog. È una cosa che ha preso forma da sé, però secondo me quando ha iniziato a farlo, a scriverlo intendo, questa narrativa, chiamiamola narrativa, che ha trovato a suo agio, si è sentito bene nel farlo, perché l'ha fatto copiosamente e anche con un certo ritmo. E infatti in questo io l'ho apprezzato molto, per esempio io non ho mai scritto niente a livello narrativa, perché? Perché nella mia mente ho anche scritto varie cose, però nel momento in cui le ho scritte nella mia mente, per me è già finito, cioè sono soddisfatto. Poi dicono che io abbia una buona memoria, magari scrivo l'introduzione e basta. Comunque sia in genere inizio e poi non finisco mai. Perché non ho urgenza espressiva, evidentemente. E allora così, beh sì, tutto un divertissimo, no? Al contrario Francesco ha scritto un libro, cioè la quantità è un testo. Quindi poi a quel punto, cioè io non ho neanche letto tutto, ho letto delle parti, gli ho dato magari delle dritte, più che altro gli ho detto, ma no, questa cosa sembra troppo un manga, ma no, questa cosa, più che gli scrivi questo, l'ho sempre, tra virgolette, demotivato, nel senso frenato. Non l'hai fatto bene. Però penso che questa sia una forma di, come si dice in italiano, sai in inglese, to polish, levigare, no? Togliere le asperità, lucidare, togliere le asperità. Il vero polish è interessante perché in inglese, anche sui prodotti, se un prodotto è rozzo, se non è ben fatto, se mostra dei lati di fanatismo o di dilettantismo, si dice it's not polished, it's not polished enough, yet to be polished, enough to be published. Quindi lo devi ancora lavorare, levigare. Quindi penso che io, Francesco, abbia dato solo degli spunti su questo. No, in realtà hai fatto molto di più, perché comunque alla fine abbiamo imparato anche come si scrive una storia, come si caratterizza un personaggio. A un certo punto sembrava anche di essere, che ne so, in un laboratorio di creazione del personaggio. ma il tuo contributo è stato molto importante in questo libro, secondo me. Facciamo un po' di ordine, così chi ci ascolta capisce meglio. Facciamo un po' di struttura. Quindi i personaggi in questo libro sono fondamentali. È un libro molto lungo, di oltre 400 pagine, dove i protagonisti sono di fatto tre. Ed è anche un libro poi però diviso in due grosse metà. Cioè, la prima metà vi è il protagonista, un rico, che interagisce soprattutto con una delle protagoniste, cioè l'ala. La seconda metà, dove si sviluppa molto di più invece la storia con la seconda delle protagoniste, cioè l'ena. Parlaci un po', Francesco, della struttura generale del libro e delle, diciamo, delle linee narrative principali. Poi dopo ne discutiamo. Allora, come giustamente hai detto tu, la linea narrative è basata sui personaggi, cioè stile anime anni 90 praticamente. Non c'è una grande narrazione nel libro. Sostanzialmente abbiamo questo Ulrico, che è un impiegato italo-tedesco, che si innamora di una modella marroquina, appunto l'ala, e la prima parte del libro è dedicata al rapporto tra Ulrico e l'ala. Dopodiché, già nella prima parte, compare questo personaggio, ossia l'ena, che è una ragazza dark ucraina, che sembra interessarsi comunque al rapporto che c'è tra l'ala e Ulrico. Cioè, sì, si conoscono nei centri sociali, per fare un centro sociale immaginario al quale non ho dato alcuna connotazione politica, perché non mi interessa dare connotazione politica alla cosa. Questa l'ena, che è più grande di l'ala, perché l'ala ha 20 anni, Ulrico ne ha 30, l'ena ne ha 31. Sembra interessata... Cioè, il rapporto tra l'ala e Ulrico è abbastanza burrascoso, diciamo, abbastanza tossico, si può anche dire, date comunque le latenze che hanno entrambi. Entrambi comunque con un cattivo rapporto con il padre, ed è questa la cosa che li unisce a fin fine. L'ala è in contrasto con il padre, perché è troppo occidentalizzata, vive troppo all'occidentale, mentre invece Ulrico è in contrasto col padre, perché il padre non è capace di dargli amore e mette tutto sul piano del denaro. Ha messo il rapporto esclusivamente sul piano del denaro. Questa infelicità, anche in alcuni dialoghi tra Ulrico e l'ala, viene fuori che questo disagio nei confronti della figura paterna in qualche modo li tiene ben stretti, nonostante comunque si allontani, non si riavvicini, non si facciano del male a vicenda, eccetera. Lena, d'altro canto, è molto interessata all'ala. Allo stesso modo in cui l'ala sembra che debba riempire il vuoto che ha Ulrico a causa della perdita della sua ex storica, sembra che l'ala debba riempire anche un altro vuoto che è in realtà Lena, da come si comporta. Quindi si crea un triangolo, diciamo, amoroso, tra virgolette, non è un manga, in cui Lena, almeno nella prima parte, sembra un po' dirigere i giochi, perché è la persona più adulta, più scafata, più solida, diciamo, degli altri due, che comunque sono un po' in preda alle loro nevrosi e agli accadimenti. Nella seconda parte si ha un plot twist, l'ala esce di scena, non voglio fare troppi spoiler, e la narrazione viene incentrata sugli altri due personaggi. Diventa più un discorso da introspettivo e psicologico, diventa sempre introspettivo e psicologico, sì, però si fa anche una certa panoramica sociale sulla condizione di una coppia nella, diciamo, nella grande disgregazione, chiamiamola così, per citare Kukuyama, come sa benissimo Gualtiero. Si può parlare anche di uno studio dell'amore nel mondo di oggi, in un mondo che spinge molto sulla solitudine delle persone, sul profitto come un unico modo di interfacciarsi, diciamo. Io credo che voi due tipo, abbiate letto infinitamente più di quello che ho letto io. Non ho mai scritto niente e sono un pessimo lettore. No, ho scritto un libro sul mio Gio. Però non conta. Però, quel poco che ho letto, l'ho letto con attenzione, perché non so fare in altro modo. Allora, spesse volte mi sono chiesto cosa voglia dire creare finzione. Il perché, il per come. Tu, Antonio, ti è mai capitato di scrivere qualcosa di tuo? Sì, l'ho scritto, anche pubblicato, però in poesia. Ok. Allora, io, ovviamente sapete, non so se anche la vostra testa funziona così, però la mia testa funziona un po' che, non perché uno voglia scrivere il libro della sua filosofia di vita, però in qualche modo si cerca di sistemizzare le nostre percezioni. Cerco di dare un ordine alle mie percezioni, perché sennò è veramente tutto a caso, no? Cioè, conscio del fatto che è solo un ordine che creo io, di quello che ho percepito io, e infatti non ci voglio fare un libro che valga per tutti, però... Allora, dato che comunque per lavoro ho avuto spesso a che fare con la finzione, no? i film, le serie animate, i fumetti, i libri che ho letto. Io sono il tipo di persona che non gli interessa niente della storia, perché è finta del tipo che mi importa. Certo, c'è la vita, è finta, sì. Che interesse c'è a sapere come vanno a finire le cose. Ciò che può interessarmi, e che infatti mi fa quasi sempre lasciare un libro dopo il primo, il secondo capitolo nei casi migliori, è che se leggendo una finzione capisco che l'autore di quella finzione, tramite quella finzione, sta cercando di esprimere qualcosa a me, eh, voglio capire cosa sta esprimendo l'autore. Insisto, della fabula non mi importa niente. Tutto questo preambolo per dire probabilmente dopo un po' mi sono convinto che i modi di creazione della narrativa sono fondamentalmente due. Ovvero, comunque la narrativa sarà sempre in qualche modo un'opera di spoglio. Forse ne avevamo parlato, Antonio, quando parlavamo di Anno Chidiachi, no? Sì. Il problema è quest'opera di spoglio che ruba, da cosa ruba? Ruba da altra narrativa? Ruba, come posso dire, dalla fantasizzazione sensuale, ovvero desiderosa della persona, dalle sue paure? Oppure ruba da quello che la persona ha vissuto? Dalle sue esperienze? Cioè, alla fine il bacino è limitato? Nel senso, da qualche parte deve andare a prendere, no? Per esempio, nel caso di... Allora, se uno ruba semplicemente dalle proprie fantasie e dei propri desideri, viene fuori quello che secondo me in giapponese si chiama un doji, cioè nel senso un fumetto amatoriale in cui un autore da... parlo come un certo cartone animato che mi piace molto, dà una sorta di metasostanzialità ai suoi desideri, li proietta e gli dà una pseudosostanzialità se sa disegnare disegnando, se sa dipingere dipingendo, se un letterato scrivendo, cioè per me anche Desad era così, quello lì è stato incarcerato e quant'altro, però non so se abbia fatto un decimo delle cose che ha scritto nel... 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 in una delle tre versioni perché quelle le ho lette tutte e tre. Ok, le maledate delle altre... ha fatto cose pesate... Sì, poi sui video le storie di Giulietta è ancora peggio, però quella non l'ho letto. Secondo me quelle erano proprio le... come posso dire, le pseudo-concretizzazioni dei suoi desideri e secondo me ce n'è tanta di roba così. Per esempio anche su una cosa che ha avuto tanto successo tipo The Game of Thrones, Il Gioco dei Troni, no? E a me sembra tutta una metasostanzialità dell'immaginario dell'autore che è un autore di libri se non mi sbaglio all'inizio, Però se parliamo di per esempio nel fantasy già un Tolkien non mi sembra la stessa cosa cioè mi sembra che abbia fatto una grande allegoria con la sua storia in qualche modo e evidentemente in questa grande allegoria di cui io non sono assolutamente l'aspetto conoscitore in questa grande allegoria lui ci avrà messo dentro tanto della sua esperienza anche, no? Delle sue riflessioni. Secondo me per Francesco è stato un po' così perché questo è di voi io l'ho visto un po' comporsi non tanto con ah quanto mi piace questo quanto mi piace quell'altro la fantasia, no? Questo forse era più un po' più la logica con cui parlavi di quel racconto che poi non hai fatto tipo la truma linea dicevamo Sì esatto in questo caso mi sembra che lui abbia riflettuto su delle esperienze che ha vissuto su delle persone che ha visto su se stesso e poi in qualche modo questa cosa si è formata un po' spontaneamente come un mosaico in cui dei riflessi di tutte queste esperienze si sono anche fusi nel senso non c'è secondo me per quello che Francesco mi ha raccontato non c'è un singolo personaggio che sia quella singola persona che lui ha conosciuto non c'è un singolo ambiente che sia precisamente quell'ambiente però tante esperienze persone riflessioni che Francesco ha fatto si sono riflessi nei personaggi e nelle situazioni secondo me questo è buono perché ovviamente noi tutti siamo singoli quindi fermo restando che ciascun autore secondo me proietta sempre se stesso qualcosa di se stesso in tutti i personaggi è banale dire ah quel personaggio di quel libro è una proiezione dell'autore è tutto il libro una proiezione dell'autore non potrebbe essere diversamente e tutti i personaggi hanno qualcosa dell'autore però a me sembra che i vari personaggi abbiano anche qualcosa di altre persone e questo è ricco perché dà un realismo che viene solo dalla diversità è ovvio che se io scrivo un libro facendo di tutti i personaggi i miei cloni oltre ad essere noiosissimo è insignificante io comunque non sono di Milano sono di Torino da ragazzino sono cresciuto in Borgo San Paolo che era una zona di Torino che ho visto proprio con la crisi dei subprime diventare da abbastanza benestante a quartiere pieno di malavita e droga eccetera e allo stesso tempo comunque essendo i miei genitori divorziati avevo anche l'affidamento e ogni tanto andavo anche da mia nonna in provincia di Torino quindi in me c'è stato sempre questo contrasto tra il mondo della provincia diciamo e il mondo della periferia della grande città Torino non è proprio una grande città però comunque diciamo che siamo in Italia non siamo in America quindi è comunque una città e quindi questa cosa qua è molto presente nel libro però comunque il libro è una storia di periferie non c'è la Milano bene non ci sono elementi piccolo borghesi come c'è la maggior parte della letteratura italiana che ha avuto modo di leggere quindi appunto gli elementi piccolo borghesi nei personaggi non esistono sono Lena è un'immigrata che comunque si è fatta qualche soldo grazie alla sua genialità alla sua bravura col computer ma alla fine vive in una casa che non ha neanche l'impianto elettrico a norma ad esempio Ulurico vive praticamente nelle periferie milanesi con la piazza di spaccio sotto casa e Lala è una che ambisce a rendersi indipendente a seguire tutta una narrazione del successo dell'autorealizzazione del salto di classe sociale ma alla fine rimane sempre frustrata e non ce la fa in qualche modo e questo genere è una frustrazione cosa che comunque viene aggravata anche dal suo disturbo non mi piace etichettare le persone con dei disturbi però comunque alla fine a un certo punto nell'ala viene diagnosticato il disturbo borderline di personalità sono un po' come bianponi ecco perché bianconi il cantante del baustel eccolo qua una volta Gualtiero mi ha detto che questo è l'occhio di Lena uno dei protagonisti del libro infatti anche qua c'è una canzone che si chiama antropofagus nel libro si chiama antropofagia quindi c'è qualche riferimento al bianconi anche se in realtà il titolo l'ho scelto definitivamente in base a un altro evento ma questo magari ne parlo dopo comunque questo Ulurico che avviene da fuori arriva a Milano e si ritrova nel regno animale per citare anche un libro del biancone nel regno animale in cui ci sono va in questi frequenta questi centri sociali in cui non esiste più un centro sociale immaginario in cui non esiste più una spinta politica non esiste più una qualche forma di idealità ma esiste soltanto dei ragazzi che pensano alla pornografia che si esprimono mediante il turpiloquio i rapporti tra persone sono praticamente al collasso siamo comunque nel post pandemia Ulurico all'inizio fa uso di Tinder ad esempio c'è tutta una pantomima sui casi mani di Tinder che è sia grottesca ma allo stesso tempo anche spaventosa diciamo le persone come diceva Pasolini nel regno animale sono degli automi che si scontrano tra di loro senza neanche guardarsi in faccia è uno scontro violento quello che avviene nelle interazioni tra persone non c'è della vera comunicazione tra i tre personaggi si stabilisce una qualche forma di comunicazione che va al di là delle catene di montaggio di Tinder dei social media delle periferie quindi mi è piaciuto quando Qualtiero ad esempio ho paragonato dopo che ho scritto il libro l'ha paragonato al regno animale di Bianconi perché ci sta come paragone assolutamente tra l'altro io non l'ho letto il regno animale di Francesco Bianconi tu Antonio di dove sei? dove sei nato non so se poi tu ci sei trasferito io diciamo che sono nato e cresciuto in Emilia tra Parma e Bologna nato a Parma cresciuto a Reggio Emilia poi ho studiato a Bologna quindi diciamo emiliano ok allora secondo voi test secondo voi se vogliamo dire di città come diceva Francesco prima quali sono in Italia dei centri abitati che possiamo definire città quindi urbane io ne ho due vai Roma e Napoli ok li conosco entrambe Napoli poco Roma tanto cioè la sede principale del mio lavoro ok poi io aggiungerei comunque anche almeno Milano e poi aggiungerei anche almeno Palermo non è esclusivamente una questione di numero di abitanti hai presente? è proprio una questione anche di tessuto per esempio Milano io credo sia una città però io non ho mai vissuto la città nel senso che ho sempre vissuto non dico al centro di Milano perché non lavoro nella moda però all'interno del secondo anello è presente Francesco? quindi tutto sommato io la vera periferia non l'ho vista e all'interno del secondo anello io non so quanto Milano sia una città perché la giravo a piedi perché andavo a piedi da essenzialmente Piazzale Loreto quella zona lì fino al centro fino all'altra parte sono uno che cammina abbastanza quindi come Bologna cioè è ancora una cittadina poi se ci metti la vera periferia che io non conosco diventa una città poi ci sono anche molti quartieri che sono stati annessi alla città quindi magari hai un quartiere che è come un paesello ma è annesso a città tipo quello dove vivo io ad esempio ma infatti questo secondo me è proprio l'elemento che distingue un vero tessuto urbano da un tessuto comunque provinciale per quanto esteso sia il fatto della conurbazione non so come dire dell'agglomerato e secondo me parlando di tu hai detto sei originario di Torino ne hai vista anche però la provincia parlando dell'opera di Francesco Bianconi in musica principalmente i testi delle sue canzoni adesso magari quando saremo tutti vecchi lui al proprio vecchio di noi vedrà questo video e dirà ah quello lì aveva capito oppure non aveva capito niente secondo me tutto quello che lui ha fatto è la descrizione del suo essere provinciale e vivere questo suo essere provinciale quando era ancora provinciale quindi proprio agli esordi come una gabbia e poi quando lui è andato a Milano per essere trasferato a Milano viverlo come uno stridente conflitto perché io che sono provincialissimo io sono nato in un paesino sono nato e vive in un paesino dell'Abruzzo paesotto dai dell'Abruzzo e anche avendo visto città molto più grandi di quelle italiane sono stato tante volte a Tokyo sono stato in varie città grandi della Germania e la sensazione che sempre mi aggredisce è che le persone che posso incontrare nelle più disparate situazioni e ovviamente sono persone reali no? poi io sono uno che attacca bottone sul treno al bar è però sempre la sensazione che non siano quelle persone cioè come dire che nel loro alveolo e fuori siano completamente diverse quindi è come la sensazione che in città le persone escano da casa e non dico adesso sarebbe ritoria di indossino una maschera bla 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 ma siano come sospese sospese in un ambiente che loro stesso in realtà non sentono appartenermi è una sensazione strana che ho per esempio c'è un video di una canzone di Francesco Bianconi la canzone secondo me è bellissima ma è paga tanto 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 tributo a varie altre esperienze musicali italiane quindi ok sempre il discorso dell'opera di spoglio ma secondo me è una bellissima canzone il video per me è agghiacciante nel senso che è forte forte ed è si chiama Betty questa canzone che praticamente segue la giornata di una ragazza a Milano e essenzialmente questa giornata dal risveglio alla fine del video sembra una discesa in campo di stordimento ma sembra che lei si svegli trovando il suo disagio di spenziale e poi tutta la sua giornata fuori da quella casa che è solo la proiezione del sé si vede sembri la sedazione di quel disagio che lei ha ritrovato al risveglio è francamente terrificante perché io sono un provinciale quindi questa io non so se questa cosa sia totalmente normale per chi è nato in città però per esempio io a Bologna ho studiato e io a Bologna non la chiamerei una città perché tutto sommato la giravo tutto a piedi dopo un po' conoscevo i negozianti andavo a passare il tempo nei negozi delle cose che mi interessavano tutto fatto di punti di ritrovo non so se sia ancora così però nelle città questa cosa quasi non mi sembra possibile a meno che non ci sia un club non so come dire proprio un punto che è un punto di ritrovo perché è nato per essere un centro sociale quello che arriva da fuori che magari è cresciuto un po' nelle periferie così che non ha che non ha gli agganci col mondo che è piccolo borghese chiamiamolo in questo modo vado in centro sociale è chiaro Torino magari è piccolo però secondo me non è tanto una questione di dimensioni ma è una questione come dice anche Marco Augè di non luoghi nella percezione che ho del luogo in cui vivo il non luogo è un luogo senza radici diciamo come ad esempio c'è certe zone anche di Milano tipo che non so la zona vicina al palazzo di Cristallo con tutti quei graffiti sembra proprio una wasteland che raffigura anche nel mio libro quando ci sono Elena e Ulrico ad esempio che vanno al teatrino del centro sociale che poi tra l'altro il titolo Antropofagia effettivamente l'avevo scelto perché in un centro sociale è andato a vedere una rappresentazione di Moby Dick che si intitolava per l'antropofagia in cui c'erano queste tematiche della naturale tendenza degli esseri umani a sbranarsi l'un l'altro quindi ho detto top questo è il titolo del libro poi c'era anche Qualtiero che aveva suggerito qualcosa del genere appunto riferendosi a questo disco secondo me è una questione di mancanza di radici ma anche in provincia ad esempio trovo del disagio di questo tipo tra l'altro tu stesso avevi detto Antonio che ti aveva colpito il capitolo in cui i due della città sia Elena e Ulrico andavano a basto che è un capitolo che a diletta non piaceva che lo riteneva un filler però in realtà tu mi avevi detto che lo ritenevi fondamentale anche io lo ritengo fondamentale in realtà non è proprio un filler che mi avevi detto che se cosa avevi detto riguardo a Pasolini avevi detto che Pasolini in qualche modo descriveva quello che descrivo anche io ovviamente io non sono Pasolini per carità non sono nessuno io però descriveva appunto questo mondo che sta tendendo a essere sempre più industrializzato sempre più basato sul possesso di oggetti sul possesso di denaro eccetera e lui riteneva i ragazzi delle porgate in qualche modo i ragazzi delle province agresti e pastorali come l'umanità pura la gente poco scolarizzata la gente umile che non conosceva il possesso eccetera tuttavia tu mi avevi fatto notare che nel capitolo della provincia mi avevi detto che questi personaggi qua non erano poi neanche così diversi da quelli della città perché c'erano in loro delle tendenze piccolo-borghesi in qualche modo le avevi definite così mi piace questa parola piccolo-borghese dunque gli spunti sono tanti vorrei cominciare parlando un attimo dell'argomento città iniziato da da Gualtiero Gualtiero dice nelle città adesso si va verso uno stordimento cioè si esce e veniamo bombardati perché qual è il mio pensiero che non è solo una wasteland omologante la periferia che sicuramente come lo descrive Francesco e come la vediamo è un non luogo è qualcosa di degradante e degradato ma anche il centro cittadino ormai confrontando le grandi città con gli stessi brand gli stessi negozi lo stesso stile di vita è in realtà un dispositivo di stordimento e di annichilimento con le luci con i rumori con la musica con appunto i loghi le grandi città Milano penso a Londra penso a Parigi non cercano nient'altro che farti spendere 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 a prodotti che in realtà puoi trovare dappertutto e puoi comprare anche online perché non sono neanche caratteristici del luogo stesso o se sono caratteristici sono diventati poi turistici e quindi assolutamente anche quelli omologati e standardizzati perché sai già cosa aspettarti quindi non hai un'esperienza genuina del luogo e quindi da un lato c'è l'omologazione della periferia con le case popolari con i prefabbricati con il degrado che diciamo accomuna diciamo le grandi periferie italiane sono più o meno simili da molti punti di vista e poi però c'è anche l'omologazione dei centri invece più storici e più centrali che di fatto perdono un po' di identità dall'altro canto poi c'è la provincia tu hai scritto la provincia di Vasto con dei personaggi che da Vasto vanno a studiare a Milano seguendo un sogno milanese quindi del percorso di studi al Politecnico per poi trovare un lavoro nella grande città o magari tornare però arricchiti in provincia così da da essersi sistemati e di fatto loro cos'hanno hanno un'aspirazione omologante cioè un'aspirazione di far parte del grande schema della città cioè non hanno un'aspirazione provinciale hanno un'aspirazione se vogliamo è un'aspirazione provinciale ma da allocarsi nella grande città e poi di fatto anche chi vive nella grande città aspira la stessa cosa cioè ad avere un percorso di studi spendibile sul mercato e sperare che vada tutto bene poi perché il confronto con i ragazzi di Vasto è importante perché la differenza poi non è tanto di luogo tra i protagonisti e invece questi personaggi che vengono da Vasto è soprattutto per quanto riguarda l'inclinazione cosa voglio dire Lena dice al protagonista un relico loro non sono sporchi come noi non si sono sporcati cioè la differenza qual è che Lena e un rico sono passati attraverso un percorso di veramente abisso mentre l'abisso dei ragazzi di Vasto è censurato perché loro vengono comunque da una famiglia provinciale magari della provincia quella degli anni che furono che ancora era solo parzialmente decaduta e contaminata dalle ispirazioni cittadine e quindi avevano diciamo delle radici più solide e soprattutto non avevano toccato l'orrore l'abisso e la nevrosi che i protagonisti invece vivevano vivono quotidianamente guarda una cosa ovviamente mentre voi parlate io penso ovviamente non ho un discorso preparato anzi magari una cosa che dici tu una cosa che dice Francesco mi fanno pensare per la prima volta una cosa io di Pasolini ho visto soprattutto due cose uno era visto dico e a parte la letteratura o il cinema dico lui che parlava come intellettuale uno era un discorso sulla famiglia che lui faceva in una vecchia trasmissione italiana dove parlava con tanti persone giovani in cui spiegava come la famiglia fosse un ostacolo dal punto di vista dell'economia industriale perché ovviamente la persona sola è un consumatore molto più efficiente di una persona che faccia parte di una famiglia perché la famiglia praticamente è un'altra con una piccola difesa un po' meschina che fa l'uomo per difendersi dal terrore dalla paura dalla fame è una specie di istinto di difesa per cui l'uomo si crea una tana e in questa tana fa quello che vuole il padre o primi figli eccetera eccetera detto questo però la famiglia è anche il covo delle cose più belle dell'umanità è successo qualcosa in questi ultimi 10 anni in Italia nel mondo in questi ultimi 50 anni cioè siamo passati da un'era con le maiuscola cioè un periodo millenaristico e non semplicemente di secoli di anni da un'era in cui la famiglia era veramente il nucleo di questo enorme mosaico che era una società preindustriale cioè artisanale contadina marittima pastorale eccetera siamo passati a un'altra era con le maiuscole che è la civiltà tecnologica in questa nuova era la famiglia non serve più comunque a me risulta che era ancora un problema aperto perché la famiglia è raggiunta proprio perfettamente proprio in quanto famiglia mettiamo del carosello un nucleo familiare che si fa dunque un nucleo di consumatori e col padre il figlio però nel tempo stesso sono dei fenomeni che stanno a dimostrare come la famiglia si sta risolvendo non è più quel centro completo totale quel codice primo del codice sociale che era un'adolta i figli ormai passano la maggior parte del tempo fuori dalla famiglia è ovvio che è una famiglia dei bisogni certo è ovvio che è una famiglia che prolifera dei bisogni anche per l'allevamento dei cuccioli no? dei piccoli è ovvio però è altresì ovvio che una persona sola per riempire il suo tempo salvo rari casi di nobile eremitismo non ha altro che il consumo cioè le persone sole sono veramente rare quelle che passano il tempo come dei cenobiti a pensare a Dio e a leggere le scritture ce ne sono state ce ne sono ancora nel nostro territorio credo molte poche però sono rare ovviamente la solitudine richiede lo stordimento della solitudine e lo stordimento della solitudine avviene tramite il consumo ma in senso lato il consumo di informazioni il consumo di contatti il consumo di sesso il consumo di alimentazione consumo mitizzazione del consumo consumo mitizzazione ok questa cosa e questa cosa di Pasolini mi sembra molto intelligente soprattutto perché il punto di vista lui la fece proprio antelittera nel senso la sua visione era veramente lungimirante la seconda è quella che dicevi tu penso fosse un documentario sugli spazi urbani e gli spazi cittadini e il loro significato parlando della città quello che dicevo prima mi viene il dubbio che il vulnus la questione sia la formazione dell'identità della persona e la formazione dell'identità della persona temo che comunque avvenga entro una certa età quindi temo che determinate mancanze entro quella certa età lasciano delle grosse voragini che andranno eventualmente a riempirsi con qualcos'altro perché ciò che si è perduto secondo me non è recuperabile dato che il modo in cui si vivono le cose dipende estrettamente dall'età di chi le vive e questa cosa forse una tutto rimanda a come viene vissuta la famiglia nel senso la sensazione che nella città la famiglia l'idea di famiglia si è andata a disgregarsi semplicemente prima rispetto alla provincia rispetto all'ambiente rurale che io ho vissuto per carità però anche se penso a un certo tipo di filmografia settantina quindi post Miracolo Economico post 68 mi viene in mente poi quel film Boccaccio 70 che è molto interessante la sensazione che la grande differenza sia che le personalità si sono le individualità le personalità degli individui si sono andate a formare con altro i rapporti affettivi familiari forse è tutto qui mi chiedo se sia tutto qui beh questa è una tematica quella che hai evidenziato tra l'altro è una delle tematiche base del mio libro perché comunque i personaggi sono tutti appunto senza una famiglia sono dei sans famiglia cercano di costruirsi una loro famiglia però non hanno una famiglia precostituita su cui basarsi sì sicuramente l'aspetto della famiglia è fondamentale credo le riflessioni credo ci siano da fare molte riflessioni sullo statuto della famiglia nella contemporaneità dall'altro canto è anche a volte leggermente rischioso forse idolatrare o comunque astrarre l'idea di famiglia degli anni 50 degli anni 60 perché anche quella era una un'istituzione che aveva i suoi difetti e che da un certo punto di vista ha portato anche a quello che è successo adesso nel senso che le famiglie costituita negli anni 60 hanno poi portato la generazione cresciuta negli anni 80 a una certa forma mentis a un certo modo di concepire la vita e la carriera e di aspirazione che poi ha portato alla generazione di cui parla Francesco cito un libro di Michele Mari leggenda privata dove appunto parla della sua famiglia ovviamente la sua era una famiglia sulla carta fuori dai generi perché è figlio di due artisti designer eccetera e tuttavia in realtà le dinamiche familiari che ha vissuto molto traumatiche sono quelle se vogliamo anche tipiche di una certa famiglia di quegli anni e poi tanta cinematografia italiana descrive anche le dinamiche morbose che non funzionavano di quello di quello stile familiare se vogliamo dal punto di vista più ironico e che però secondo me illuminante banalmente Amici miei di Monicelli in realtà è un grosso spaccato di alcune dinamiche familiari dell'epoca e quindi cosa voglio dire ma c'è nel senso se tu parli primo Amici miei sì allora ovviamente chiedovenia io di cinema non capisco niente sono una persona ignorantissima però secondo me in Italia nella storia del cinema italiano il neorealismo evolve in una sorta di commedia dell'arte e poi diventa la commedia italiana nel senso è quello che fa i sconti con bellissima Rocco e i suoi fratelli che ovviamente non è più la terra trema e a quel punto inizia la vera commedia italiana che altro non è che una tragedia macchiettistica della società italiana e degli spaccati dell'umanità anche i mostri e così voglio dire il primo in qualche modo penso che quello fosse un'epoca sia stata un'epoca in cui a dispetto di quello che molti film potevano sembrare il cinema esprimeva dei concetti critici e spesse volte anche critici della società ovviamente questo è facile da distinguersi in un Eliopetri no? sì io amo molto Eliopetri mi piace il suo cinema però l'altro giorno con mia moglie stavamo ristudiando perché lei insegna la scuola media e quindi stava preparando una lezione su verga uno dice verga verga al verismo ok però abbiamo riletto insieme maestro Gesualdo che io l'essere scuola media quindi da media a media e alla fine maestro Gesualdo non racconta nulla non c'è fabula è semplicemente un racconto della nevrosi e della vita di una persona che si chiama Gesualdo la roba in realtà era il racconto la roba che poi è la base per Bazzaro la roba non racconta nulla è solo è il racconto di Mazzaro basta è la sua tragedia fine e quindi sembrava un fin di Eleopetri non so come dire non c'era neanche una fabula quindi alla fine forse il verismo era già diventato quel tipo di appresso psicologico nevrotico di una società e così il neorealismo diventò questo secondo me sì e poi il collegamento si può fare anche con Zola e tutta quella corrente no di letteratura che effettivamente affronta le nevrosi di varie state della società infatti secondo me il libro di Francesco si si mette in questa linea di letteratura che senza scomodare Auerbach eccetera però che affonda nel nel contatto con dinamiche più quanto mai più realistiche e reali cercando di di mettersi in rapporto con personaggi che sono appunto non astratti non leggendari non mitici non figure allegoriche ma quanto più dinamiche nel contesto in un contesto in cui è facile potersi riscontrare per quanto riguarda la cinematografia scusa se ti interrompo infatti non è che faccio un'idealizzazione della famiglia o altro della famiglia più che altro il messaggio che si passa anche attraverso ad esempio la figura di Lena è che la famiglia può essere anche la sede dei più grandi orrori perché è proprio l'essere umano che ha una grande amiguità in se stesso soltanto che quando l'essere umano con tutti i suoi problemi strutturali chiamiamoli così viene abbandonato a se stesso viene lasciato nella solitudine allora lì si sviluppano ancora di più le sue nevrosi le sue psicosi c'è anche un ragionamento che fa il protagonista a un certo punto che capisce dopo aver avuto a che fare abbastanza con la Elena inizia a capire un attimo questa cosa qua e nelle sue ripressioni lo dice comunque un'altra cosa che mi è fatto piacere è che avevi riconosciuto nel mio libro una citazione a Fosca reintroducendoci nella letteratura italiana dal quale non ho molto attinto perché il mio punto di riferimento tecnico è Sose chi più che altro infatti prima di scrivere questo libro per imparare a scrivere dato che non ho fatto la scuola a Olden non ho fatto nessuna scuola avevo letto Sanchiro e me l'avevo cesellato ovviamente la traduzione in italiano perché non so il giapponese me l'avevo cesellato frase per frase per capire come mettere i dialoghi per capire come fare le cose infatti ad esempio c'è un personaggio nel libro anche che è un tributo al professore di Sanchiro ad esempio e quindi detto questo mi è fatto molto piacere che hai riuscito a leggere la citazione nel libro a Fosca perché infatti l'amore giovanile di un ricco che lui tanto rimpiange si chiama Clara esattamente come la ragazza tutta a quei sapone di Fosca che poi e poi Fosca in un certo senso sarebbe là la ragazza invece nevrotica turbata la cupa eccetera anche se come avevi fatto notare un po' come in Young ci sono degli elementi di Fosca in Clara nel mio caso elementi di Clara in Fosca ad esempio quindi diventa tutto più meno simbolico diciamo più concreto magari faccio questo piccolo questo piccolo preambolo così dopo vorrei dare la palla a Gualtiero sì effettivamente ci sono queste c'è questa contraposizione tra diciamo Clara e Fosca nel senso Clara il personaggio appunto chiaro luminoso che dà radici che dà speranza che diciamo cura anche in alcuni aspetti le nevrosi del protagonista dall'altro c'è Fosca cioè l'ala cioè invece l'aspetto più turbido anche se vogliamo più vitale di una vita più vitale da certi punti di vista e però in realtà è un aspetto di vitalità che poi risucchia la vita del protagonista e anche in Fosca c'è questo elemento alla fine del tutto il suo di tutta la storia della vicenda il protagonista di Fosca diventa malato come Fosca quindi anche lui cade nel 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 viluppo nel vortice della malattia e questo aspetto però di Yin e Yang che dicevi tu cioè in Clara ci sono degli aspetti di Lala in Lala ci sono degli aspetti di Fosca è un aspetto di cui avevo parlato anche con Gualtiero per quanto riguarda alcuni personaggi femminili di Miyazaki cioè in alcuni diciamo c'è una grossa dicotomia tra i personaggi femminili Miyazaki personaggi femminili diciamo innocenti ancora non entrati nel mondo nelle dinamiche adulte e nei drammi e nelle anche nelle vrosi adulte e dall'altro altri personaggi femminili che invece hanno avuto delle esperienze tali per cui rimpiangono quell'ingegnità quella carica vitale giovanile e però qual è il punto che in ogni personaggio femminile diciamo più innocente c'è in nuce la potenzialità del personaggio diciamo decaduto e adulto femminile mentre appunto nel personaggio femminile decaduto c'è il ricordo e la nostalgia di quello che era stato prima purtroppo non ho delle impellenze non posso restare fino alle due quindi intanto faccio un saluto a chi ci sta seguendo poi lascio a voi due sì volevo dire che è giustissimo quello che tu dici in realtà lo diceva anche Pasolini Francesco il fatto che la famiglia non è una cosa idealizzata nel senso la famiglia ha anche il teatro delle prime tragedie e dei traumi però è comunque un ambiente ed è comunque un ambiente individuale nel senso nei suoi bene nei suoi male è un ambiente formativo individuale e identitario del soggetto perché ovviamente nell'inconscio io credo che il soggetto sa che la sua famiglia non è la famiglia di un altro al contrario nel consumismo inevitabilmente è tutto massificato e infatti un'altra cosa che vabbè io ormai sono un po' vecchio che ho notato e che anche in provincia e penso in città molto di più è come se sicuramente avete sentito chi dice che ormai le persone sono molto più curate le ragazze sembrano tutte delle starlette del cinema della televisione il mio punto non è questo nel senso che questa cosa in sé sarebbe solo una cosa bella però è che sono tutti uguali conformismo è come se inconsciamente nell'acchittarsi secondo ciò che una società uniformante prescrive in realtà si snaturano nel perdere la propria identità e questa cosa vedo che scende perché secondo me quando ho fatto le scuole io ma ancora all'università tu palesemente vedevi ognuno come era da dove veniva come si vestiva la propria provenienza e questa diversità è in qualche modo bella al contrario mi sembra che adesso le persone sempre più sempre più e anche sempre più da giovane fin magari dal liceo è come se si alzino dicevamo prima per indossare una divisa sociale e la divisa sociale è molto molto uniformante magari non perfettamente però sì secondo me anche questo torna a perdere l'identità nel senso perché è ovvio che magari alla scuola superiore ero quello strano che gli piacciono i videogiochi ai tempi e magari si metteva la camicia perché si vestiva ancora come la mamma la vestiva alle scuole medie quindi quello infantile quei videogiochi invece restava quello mezzo bevuto tutto vestito di stracci però c'era una grande diversità all'interno della stessa classe della stessa scuola superiore sono neanche dicendo la scuola di provincia la scuola del centro no 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 a me invece adesso quando vedo le persone che escono dalle scuole sembrano degli eserciti sono tutti uguali sembrano avere una divisa non scolastica una divisa sociale e questa cosa poi ovviamente l'occhio attento dai dettagli riesce a capire ah ma probabilmente quella persona viene una famiglia più elevata però sono i dettagli nel grosso è molto molto uniformante e secondo me anche questo toglie molto dell'identità personale quindi individuale penso sia forse un problema della nostra società attuale innanzitutto ringrazio Gualtiero tantissimo grazie di cuore io saluto ciao ciao grazie mille ciao grazie Gualtiero grazie francesco abbiamo parlato quindi di omologazione di periferie che crollano di nevrosi di postmodernità di antropofagia di uomini che si mangiano qual è la soluzione qual è il filo conduttore che possa portare poi a non dico una soluzione definitiva quanto meno a una soluzione temporanea o quanto meno personale individuale perché una cosa che è assolutamente dei nostri tempi è sempre cercare una soluzione per noi cioè se un tempo si cercava un'utopia o comunque una soluzione per la società adesso siamo sempre un po' ripiegati su non possiamo cambiare il mondo non possiamo neanche comprendere veramente il mondo per quanto è confusionario e caotico quanto meno cerchiamo di risolvere noi stessi quindi come l'hai sviluppato nel tuo libro cosa ne pensi? io sviluppando il mio libro mi sono dato in qualche modo un senso ho conosciuto anche nuove persone tra cui anche tu ad esempio però al di là di questo mi sono dato proprio un senso mediante l'arte diciamo che è la cosa che fa anche Elena nel libro scoprendo il teatro ad esempio quindi secondo me nonostante la nostra cultura soprattutto in Italia l'arte la scrittura queste cose qua vengono ritenute come di serie B perché non sono profittevoli o vengono percepite come naif sempre dal dal solito modo di pensare piccolo borghese chiamiamolo così perché mi piace troppo questa parola che usava anche Pasolini tra l'altro che mi hanno citato direi che secondo me le cure la cura la vera cura è l'arte in qualche modo il produrre opere d'arte scrivere scrivere magari un libro dipingere suonare su tutte le cose terapeutiche un'altra cosa è accettarsi per quello che si è veramente come fanno i protagonisti nel libro meno quelli che riescono a sopravvivere in qualche modo a salvarsi nonostante questo possa essere nel mondo omologante in cui viviamo un atto di resistenza perché di fatto è un atto di resistenza essere se stessi quando comunque ci sono delle spinte che ti dicono che devi essere così che devi essere in un certo modo sia fisicamente che mentalmente che sui social devi essere super mega seguito super mega apprezzato pacca sulla spalla se non sei in modo di successo non vale niente eccetera direi che bisogna accettarsi per quello che si è e sicuramente in questo modo producendo arte accettandosi per quello che si è si troveranno delle persone che saranno in grado a loro volta di accettarsi per quello che si ama non saranno tante non saranno tante però ci sono delle persone simili a noi quindi costruirsi una propria nicchia come ad esempio sempre fatto io anche col mio blog come faceva notare anche Goltiero senza mai anche omologarmi alle mode degli anime in bocca del momento eccetera però questo alla fine era lunga ha ripagato perché nel mio piccolo ho conosciuto delle persone molto simili a me se mi fossi invece diciamo se fossi stato più mainstream ne avrei conosciute molte di più di persone ma alla fine non sarebbero state simili a me non ci sarebbe stato alcun vero scambio intellettuale diciamo ma la soluzione tra virgolette secondo me è questa tu sei d'accordo? direi proprio di sì cioè nel senso che per evitare l'antropofagia dobbiamo in qualche modo ritornare umani paradossalmente perché l'antropofagia ti disumanizza il quadro di Goya in questo è lampante mangiare un umano rende disumano quindi tornare è un po' retorico dirlo però l'aspetto di sincerità tornare in quello che siamo che vorremmo essere ma comunque secondo un percorso di sincerità non vorremmo essere per mostrare agli altri non vorremmo essere per per un blasone per un per aggiungere su LinkedIn una cosa interessante ma perché è quello che è in linea con le nostre aspirazioni più profonde più sincere allora a quel punto si entra in contatto con altre persone che per quanto possono essere ferite per quanto possono avere i loro difetti sono più in sintonia con ciò che siamo e vorremmo essere sì esatto io direi che con questo siamo contenti di esserci trovati sono contento che altri ascoltatori magari abbiano trovato in noi delle possibili persone sincero quantomeno che non vogliano mangiarli e contattateci perché no sentiamoci costruiamo una community benissimo grazie mille Francesco ciao grazie mille sia a te che a Gualtiero e niente buona fortuna e buona continuazione grazie grazie mille grazie a tutti